no no il tct si può fare anche in ascensore allora rispondo a brevissimamente a questa domanda il triade color test è una cosa che viene fuori dopo 25 anni di sperimentazione dopo aver visto 3500 persone in stati di prosi più o meno profonda dopo aver provato tutte le tecniche ipnotiche che l'universo aveva messo a disposizione e simulazioni mentali e tecniche delle ancore tutti i trucchi della programmazione neurolinguistica sappiate che per esempio per mettere l'ipnosi una persona ci vogliono 30 secondi non è vero che ci sono delle persone che non possono andare in pronti ci sono cattivi ipnologi e su questo non ho il minimo dubbio ovviamente la persona deve essere d'accordo nel farsi gestire nell'atto ipnotico è per questo che io dico però non c'è più bisogno di ai prosi tu sei colui che su di sé a tutte le chiavi di tutte le sue porte interne non hai bisogno di passare attraverso un altro che attraverso la sua coscienza che aiuti ad acquisire la tua coscienza quindi non ci vuole nessuno stato particolarmente meditativo non bisogna aver studiato il kamasutra o chissà cosa basta semplicemente mettersi lì e avere la costanza di attendere il segnale delle tutte le sferi Grazie.